Enzo, com'è la canzone? Ora insegnami, se lo puoi tu, ad amare e a non odiare più, se perdo te, se perdo te, cosa farò di questa vita? Ciao, si, ciao. La storia non è la leggenda, è la storia di un personaggio conosciuto a Chieta per scarparaggi. Questi erano fregni neri, erano fessi, e un uomo si portava presso attaccato come la colla. Gli dicevano, è il signo cipolla. Se tutte le cose va racconta, potrebbe che ci volesse quella in seconda. È un motivo che mi va a privare, che cosa fate raccontare? C'è quel in giro, è una storia che a chi c'è una volta è entrata lì per vittoria. Quello giorno di Pasqua, che nessuno si scorda, portava una pecore attaccata nel corpo. Quando era stata la persona, appena la veste, radicoporlo parreste. Seppure pioveva, o ne vedeva a ceciarelle, che li scendono fuori, sbracciate in gliciambelle. Perché così è un personaggio davvero. Amiche strette, di una certa mutaia, non si lasciano quasi mai. Ma quanti stuponi, mi è venuto a mancare. Essere stufate, non si è poter assegnare. E quando si è soffresa, aveva stufato, a trovare la pace e aveva la convente di rifrata. Dopo un po' di tempo, pure essa è morta. E' un barbettorio, un segno di lotta abbassata le porte. E ha chiesto di chiudere le strade, cosa che succede da rata. E la chiesa, ci stavano rifrata le brevite. E' solo questo pensiero, ma mettere i brevite. Ma io mi dico a tutti quanti, quanto un personaggio ne esce così? Perché è stato amore? Ciao maestro!